Con lo slogan United to Feed the Planet, gli Stati Uniti si presentano a Expo 2015 nel ruolo di paese innovatore, non solo nel settore alimentare. Una vocazione riflessa da un padiglione che evoca le linee del tradizionale granaio americano, ma che include anche tanta tecnologia impiegata per creare ecosistemi alimentari più sostenibili e accessibili. Lo ha inaugurato il commissario generale per il padiglione americano, ambasciatore Douglas T. Hickey, dopo una breve cerimonia del Corpo dei Marines. Credo che gli italiani, il governo italiano e i cittadini di Milano debbano essere tutti orgogliosi di quello che sta accadendo qui oggi. È un grande risultato, un bellissimo sito. Il messaggio del padiglione americano è tutto incentrato sulla sfida di nutrire il mondo, sul modo migliore per farlo, e sulle tecnologie innovative che possono essere usate per farlo. Cerchiamo di educare le persone, eccitarle e coinvolgerle nella sfida di sfamare 9 miliardi di persone entro il 2050. L'arma segreta degli americani saranno 120 studenti ambasciatori da 95 università degli States che accompagneranno i visitatori all'interno del padiglione. Basta pellicole radiografiche o CD-ROM da visionare da postazioni decentrate. Medici e infermieri dell'ASP di Palermo hanno ora la possibilità di interagire con il degente a due passi dal posto letto grazie al carrello informatizzato, un innovativo sistema senza fili a disposizione dei reparti ospedalieri, come ha spiegato il direttore generale dell'azienda sanitaria palermitana, Antonio Candela. Quando i nostri operatori vanno a trovare il degente non solo possono visualizzare tutti gli esami diagnostica strumentali fatti, ma questa è una cosa bellissima, è la prima volta che si verifica da Napoli in giù, ma si può prenotare direttamente un esame da questo carrello di diagnostica strumentale. Il carrello informatizzato sarà presto integrato con altri sistemi informatici sanitari, consentendo sempre in prossimità del posto letto del paziente di visualizzare ed interagire in tempo reale con la cartella clinica, leggere ed aggiornare il diario clinico, visualizzare gli esami ematici o di laboratorio in genere. Elio Benici, direttore del dipartimento di diagnostica dell'ospedale Ingrassia di Palermo. È stato integrato con una sorta di guo station di visualizzazione delle immagini, per cui il clinico potrà fruire immediatamente al letto del paziente delle immagini diagnostiche, del referto diagnostico, eventualmente se valuterà l'opportunità di integrare lo studio con altre indagini diagnostiche che potrà direttamente in corsia al letto del paziente formulare la sua richiesta per via telematica. I carrelli informatizzati già operativi al momento sono 10, 4 appunto all'Ingrazia, 2 ciascuno all'ospedale di Partinico e dall'ospedale Cimino di Termini Merese, 1 al Madonna dell'Alto di Petralia Sottana ed 1 al Dai Bianchi di Corleone. Una stampante 3D a misura di famiglia, leggera, compatta e facile da assemblare in casa. È ID Box, lanciata in Italia da De Agostini dopo il successo già riscosso in Giappone. Come nel caso del piccolo robot da compagnia Robi, la casa editrice italiana porta da noi questa nuova stampante tridimensionale da costruire passo passo. Si tratta di un prodotto high-tech di ultima generazione, ma semplice da assemblare, pesa 5 kg e ha le dimensioni di poche decine di centimetri. In Giappone, dove la collana a fascicoli è stata lanciata a gennaio, 42.000 persone hanno iniziato a costruirla. Un gran successo che ha trasformato ID Box nella stampante 3D in assoluto più popolare a quelle latitudini. Per realizzare un oggetto con ID Box occorre disegnarlo, segue una digitalizzazione attraverso un software, ma in rete si trovano anche modelli 3D pronti da utilizzare. Le informazioni contenute nel file descrivono le dimensioni e la forma dell'oggetto. Le specifiche sono poi inviate a uno speciale software di stampa 3D che converte i dati in istruzioni vere e proprie per consentire ID Box di realizzare il modello. Non resterà che levigarlo e colorarlo. ID Box è acquistabile in 12 spedizioni sul sito per modellisti www.modelspace.it